Signori bentornati in un nuovo video flash. Durante la notte italiana la Ghost Galaxy ha annunciato finalmente tutti e cinque i livelli previsti per il lancio della campagna di raccolta fondi con data di inizio prevista per il 9 settembre fino al 26 dello stesso mese che determinerà l'ultima giornata utile per riuscire a supportare il progetto di rilancio per Keyforge. Passando ai cinque livelli previsti si partirà dal primo chiamato Novice of the Crucible che permetterà di ricevere a casa al costo di 50 euro uno starter set per due giocatori e due deck di Winds of Exchange. Il secondo livello chiamato Hunter of Shard prevedrà l'arrivo a casa vostra di sei unici più un playmat a scelta tra i set disponibili nel nuovo set al costo di 75 dollari. Il terzo livello non ha bisogno di presentazioni dato che è stato annunciato la settimana scorsa. Prenderà il nome di Reaper of Ember e conterrà lo ripetiamo ad onor di cronaca 12 mazzi più due playmat a scelta tra i set disponibili più un mazzo con abbinato anche il tappetino entrambi personalizzabili con il nome che preferirete al costo di 150 dollari. Il quarto livello chiamato Breaker of Chains vi permetterà di ottenere 36 deck i soliti due playmat tra i set disponibili tre mazzi con tre tappetini abbinati tutti da personalizzare come meglio preferirete una statuetta del Gorilla Niffle da esposizione una statuetta dell'ufficiale Moon anch'essa da esposizione ed un peluche del Gruen Peloso al costo di 420 dollari. E quinto ed ultimo livello chiamato Turner of Kiss vi consentirà di mettere le mani su 72 mazzi unici i consueti due tappetini tra i set disponibili tre mazzi con tre playmat abbinati tutti da personalizzare come meglio preferirete una statuetta del Gorilla Niffle da esposizione una statuetta dell'ufficiale Moon anch'essa da esposizione una terza statuetta del Dusk Runner sempre da esposizione un peluche del Gruen Peloso ed infine il set completo con più di 250 carte presente ai Winds of Exchange. Per maggiori informazioni vi lascerò in descrizione sia il link all'articolo disponibile sul sito ufficiale che alla campagna di raccolta fondi così che potrete con tutta calma selezionare l'opzione che più farà al caso vostro. E voi cosa ne pensate di questi cinque livelli messi a disposizione per la community da parte della Galaxy? Come sempre fatemelo sapere nei commenti e seguitemi se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal crogiolo.